Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Messia del calcio mercato Per chi non l'ha fatto ancora ragazzi, iscrizione al canale Mi raccomando, iscrizione al canale Allora, di che cosa parliamo ragazzi? Questo sarà un breve video Perché poi ho da dirvi altre due cose Dopo lo scandalo dell'olimpico Del tuffo da cecchino in Call of Duty di Caicedo Ieri sera un altro scandalo Al Tardini di Parma Non è stato dato un rigore sacrosanto al Parma, a Kuluseschi E io mi chiedo una cosa ragazzi Ma gli arbitri che sono incapaci E lo si vede Ma soprattutto quelli che s'hanno detto il cabbinato del VAR Ma le immagini le guardano o fanno finta di vedere? Ditemi la vostra ragazzi E con questo io chiudo perché io parlo solo della mia squadra Quando sono in casa mia A me e delle altre squadre non me ne farei un cazzo Però ragazzi Che ci siano questi episodi E gli arbitri fanno finta di vedere A me questa cosa mi puzza Poi non ho ancora sentito parlare l'Otito Con Miss Addirittura Inzaghi ha detto che è stata una grande Lazio Io la partita non l'ho vista da Lazio Però dagli highlights che ho visto Tutta questa grande Lazio Io non l'ho vista A parte anche il secondo gol Che Luis Alberto fa un passaggio filtrante E poi gli ritorna la palla indietro e tira in porta Cioè ragazzi Questo è il culo È il culo Ragazzi Io sta cosa la posso spiegare Secondo me c'è qualcosa che mi puzza Secondo me vogliono portare il campionato vivo fino alla fine E io penso ragazzi E spero che la Juve chiuda questo campionato in fretta Per pensare alla Champions League Quindi ragazzi Non domani Non domani Ma mercoledì Dovrebbe uscire un video Sulla mia Juventus del 2020-2021 Farò la mia formazione 2020-2021 Ci saranno dei nomi ragazzi Un nome nuovo sulla faccia sinistra Che ha dichiarato Paganini Che è la Juve Alaba Che è la Juve su Alaba ragazzi Che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo E penso che non stia rinnovando Avrebbe rifiutato il rinnovo Ma soprattutto ragazzi Io È da due o tre giorni che faccio sto nome Che è Thiago Alcantara Che è un giocatore Che portò Guardiola Al Bayern Monaco Anche lui ragazzi è in scadenza nel 2021 Gli hanno proposto il rinnovo Ma Lui non rinnova E ha dichiarato pubblicamente Che a fine stagione Lascerà il Bayern E il suo cartellino Dovrebbe costare Meno di 30 milioni Io se fosse la Juve ragazzi Uno come Thiago Alcantara Lo vado a prendere Di corsa Questo mercato ragazzi Secondo me È un mio pensiero Poi ditemi la vostra Cosa ne pensate Secondo me Se la Juve sta facendo un mercato del genere È anche sotto direttiva Del nuovo allenatore ragazzi Che secondo me Potrebbe essere Pep Guardiola Io ragazzi Sull'allenatore Non dico nulla Fino a metà luglio Perché sapete che a metà luglio C'è questa sentenza UEFA Contro il Manchester City Che se dovrebbe essere confermata Un anno di squadrifica Dalla Champions Più 30 milioni di multa E il blocco del mercato È l'entrata Ragazzi Potrebbero aprirsi Dei scenari Molto importanti E quindi ragazzi Io Fino a metà luglio Io sono allenatore Non dirò nulla Nulla Quindi ragazzi Ripeto Uscirà Questo video Della mia formazione 2020-2021 Ragazzi Su poco pa Ho Una notizia Che Praticamente Si è Messo in mezzo Il Paris Saint Germain Guardiola Si Raio La sta facendo Di tutto Per liberare Il giocatore A fine stagione Ma la Juve C'è sempre Su Pogba Io spero Ragazzi In Pogba Però A questo punto Se Se Dovesse sfumare Io Penso di no Ragazzi Perché veramente Mi punto giù Da quinto piano Ragazzi C'è questo nome Di Tiago Alcantra Che secondo me Alla Juve Servirebbe Un metronomo Centrocampo È l'ideale Ragazzi Tiago Alcantra Poi Se mi portano Anche Pogba E mi fanno Questo centrocampo Pogba Alcantra E Arthur Ragazzi Qua è veramente Andiamo in Europa E spacchiamo i culi A tutti quanti Quindi ragazzi Ah Ho comprato la chiavetta USB ragazzi E da sabato Dovrebbe partire Il mio secondo canale Il salottino È il primo gioco La prima serie Che si farà Ragazzi È Naruto Ultimate Ninja Storm Shippuden Il secondo Il terzo E il quarto Poi ragazzi Più avanti Ce ne saranno delle belle Ragazzi Quindi ragazzi Io vi saluto Come sempre Fino alla fine Forza Juventus Chi non ha ancora fatto Ragazzi Iscrizione al canale Questo canale di merda Questo canale pazzo di merda Condividete Commentate Mettete like Superiamo i 20 like Ragazzi Se ce la facciamo Dai su Fatemi contento Per una volta Quindi ragazzi Io vi saluto Un abbraccio Un bacione dal Pix E alla prossima